Gli elementi fondamentali sono da una parte la valle del Ticino, dall'altra la valle dell'Ada rispetto al centro di Milano. Milano è il parco sud, quindi a Milano conta il parco sud e le linee che vedete sono poi quelle dell'Olona e dell'Ambro e del Villoresi e della Marchesana, ma la parte invece trasversale, un po' simboleggiate, diciamo così, in cui la costituzione delle diverse linee, ma i colori vogliono dire che è paesaggio, ambiente, economia, cultura, infrastrutture, e quindi una visione che direte, ma che cosa c'entra Vaprio? Perché nel passaggio dalla regione policentrica alla provincia policentrica, Vaprio, insieme a Trezzi, insieme a Cassano d'Alta, diventa uno dei poli di secondo ordine che collabora con questo senso.